Grazie 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 non ho sentito l'applauso ragazzi ha spuntato il sangue grazie all right allora abbiamo già dedicato a tutti e noi avete capito il testo? oh allora aspetta no dedicato a destra va bene ringraziamo ancora tutti voi per che siete stati qua fino adesso vi salutiamo con questo finale Slappalacchi